Ciao a tutti, bentornati di nuovo in questa puntata di Wordpress, ma il titolo comunque mi piace, Wordpress per imbanati, che mi permette davvero di ricordare come mi sentivo io quando qualche anno fa, a 49 anni inoltrati, mi sono avvicinato a Wordpress, per cui puoi imparare anche tu e se il tuo obiettivo è quello di salutare il tuo capo perché non lo tolleri più, anche se hai 40 anni e non hai mai toccato un computer, e di dimostrare alla tua famiglia quanto vali, e di dimostrare alla gente quanto vali perché non ne hai mai avuto una possibilità, sappi che imparare a lavorare online ti può veramente dare un trampolino di lancio, davvero importante. Continuiamo dunque, andiamo sulla bacheca del sito che stiamo costruendo insieme e andiamo al punto plug-in. Ok, l'altra volta abbiamo parlato di Yoast SEO e ti ho promesso che più avanti ti farò vedere a cosa ci serve per la SEO on page e on site del tuo sito, per fare in modo che il tuo sito sia facilitato, grazie alla tua gestione delle parole chiave, a rencare sulla SERP di Google, ok? A rencare verso la prima pagina di Google e i primi posti della prima pagina di Google, ok? A guadagnare in page e domain authority. Bene, oggi voglio farti vedere un altro plug-in non essenziale, ma tanto ne aggiungeremo parecchi, non essenziale per il funzionamento per il tuo sito, ma più essenziale per il funzionamento della tua attività. Il plug-in in questione si chiama add to any share button e serve a installare, vedi questi pulsanti, e a fare in modo che le persone che apprezzano il tuo lavoro, ok? Riconoscenti per il valore che tu gli hai dato, facciano share, ok? Dunque vadano a condividere sul loro Facebook, sul loro LinkedIn, sul loro Pinterest, ma su un sacco di altri pulsanti e cliccando qui sul bottone universale vedi quanti sono, ok? Sui loro social, ok? Dunque andiamo ad aggiungere add to any share button che ci fa un altro regalo. Oltre ai pulsanti di condivisione, ok? Vista che è una domanda che mi fate in tanti, andiamo a vedere cosa sono invece i pulsanti questi di follow me. Sono diversi e sono, questo è il mio Facebook del mio sito scomunicare, dunque è il Facebook di scomunicare, te lo faccio vedere e come vedi si va a aprire il Facebook di scomunicare. Ti sta dicendo follow me, seguimi anche su Facebook o seguimi anche su Instagram, ok? Qui vedi si apre il mio profilo Instagram, ecco il mio cagnolino Charlie, ok? Dove ti parlo e si collega ancora una volta al mio sito e via via la mia pagina LinkedIn, il profilo LinkedIn e il mio canale YouTube. Ti faccio vedere che si apre. Ora vedi questi pulsanti perché siamo loggati proprio sul mio canale, sul mio account di Google, ok? Siamo proprio all'interno del mio canale. Torniamo alla nostra bacheca, ok? Come facciamo ad aggiungere un plugin nuovo, ok? Possiamo andare a cercarlo da qua, aggiungi nuovo, benissimo, vedi qua c'è il pulsante aggiungi nuovo, qui c'è un altro pulsante all'interno di plugin con menu a tendina, c'è un altro menu, sotto menu aggiungi nuovo, oppure puoi andare a cercare il plugin che ti interessa su Google, proviamo a vedere se ce lo dà, add to any share button, vediamo vedere plugin, plugin per essere più preziosi, più precisi, eccolo qua, perfetto, dunque lo puoi trovare da qua, ok? e due, andiamo a vederlo, ok? E qui vedi proprio a cosa serve questo plugin, comunque adesso lo facciamo dall'interno, qua lo puoi scaricare e caricarlo all'interno della tua bacheca plugin di WordPress, ok? Tornando qua, andiamo a farlo invece da qua dentro, aggiungi nuovo, quindi sono varie strade per ottenere lo stesso risultato, ok? Spostiamoci qui, nella barra di ricerca dei plugin facciamo la stessa cosa, add to any share button e come vedi lui si è già attivato per ricerca di parole chiave, ok? E qui si è regalato il plugin, siccome sarai chiamato nella tua carriera di online market, di online costruttore di siti, di social media manager, ok? Di costruttore di app a fare tante di queste cose, impara a leggere, ok? Ti consiglio di imparare l'inglese, add to any share button, share buttons for WordPress including the add to any sharing button, vale a dire aggiungi bottoni di condivisione al tuo sito per Facebook, Twitter, Whatsapp, Pinterest, Reddit, many more, molti altri. And follow icons che sono queste, le icons di condivisione. Torniamo a noi e vediamo i numeri e come viene aggiornato, ultimo aggiornamento, quattro settimane fa, dunque è un plugin importante, è combattibile con la tua versione di WordPress, in questo caso la mia, ok? 957 stelle, 5 stelle piene, ok? E' una grandissima votazione e 500.000 e più installazioni attive. Direi possiamo fidarci di questo plugin. Installa adesso, clicca qua. Aspettiamo che si installi all'interno del codice di WordPress, perché alla fine abbiamo detto che i plugin sono delle app interne delle estensioni di codice di WordPress che ti regalano delle funzionalità. In questo caso sono le funzionalità di share e le funzionalità di follow me. Attiviamolo. Ok, come vedi sta girando e adesso che è attivato, add to any share pattern, qui lo dice in italiano, i pulsanti di condivisione per le tue pagine includono il pulsante add to any di condivisione universale e molti altri. Ok, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo impostarlo. Perfetto, adesso ci troviamo all'interno della bacchica di impostazione di add to any. Vedi che qui all'interno di impostazione vediamo evidenziato add to any. Cosa vediamo? Vediamo che abbiamo uno standard e un floating. Ok, a me lo standard non piace perché mi mette i pulsanti di condivisione orizzontalmente alla fine di ogni pagina. Io preferisco che siano presenti floating, dunque come in questo caso flottanti a sinistra del sito e che siano floating sia sul cellulare sia sul desktop e anche sull'iPad. Ok, non solo l'iPad ma anche il tablet normale di altre marca. Torniamo a noi. Ok, stiamo prima sullo standard per andare a impostare alcune cose. Le icone di 32 pixel mi vanno bene, non è una misura che ho intenzione di cambiare. Qui puoi cambiare il colore dei pulsanti e far fare loro pandanta ai colori del tuo sito. In certi casi l'ho fatto, ok? Altrimenti lui ti mostra i colori originali proprio di questi social. Ok, poi possiamo aggiungere o rimuovere. Perfetto. Facebook lo vogliamo. Twitter non mi piace. Pinterest lo vogliamo. Le email le vogliamo. Ok, fammi allargare un pochino il campo. Reddit non mi interessa. LinkedIn lo teniamo. Whatsapp lo teniamo. Fammi vedere. Buffer. Copy link lo mettiamo. E come vedi lo ha già aggiunto qui in questa posizione. Mi interessava. Ok, vediamo se lo troviamo. Ah no, c'è già la mail di email. Dunque va bene così. Ok. Perfetto. Dunque colori originali. 32. Andiamo un pochino giù. Pulsante universale. Text only. No, non mi interessa text only. Va bene così voglio il pulsante. Dunque non voglio che si veda solo share. Eccetera. Intestazione di condivisione. Share this. Va bene così. Posizione. Non lo voglio. Né in fondo agli articoli. Vedi. Non lo spunto. Non lo voglio in fondo alla pagina principale. Perché lo voglio solo floating. Come ti ho detto. Dunque qua lo togliamo. Non lo voglio in fondo. Da nessuna parte. Opzioni menu. Mostra solo il menu di condivisione. No. JavaScript. SS. Lascia stare queste cose. Salva le modifiche. E adesso andiamo dall'altra parte in floating. Ok. Qui puoi decidere se lo vuoi agganciato a sinistra. Come in questo caso. Se lo preferisci agganciato a destra. Altre opzioni che devi verificare. La risponsività. La risponsività. Qui ti dice. Hide on mobile screens. Nascondi su schermi mobile. Hide until pages. No. Io lo voglio presentare appertutto. Posizione. 100 pixel from the top. Ti faccio vedere subito. Questi sono 100 pixel dal top. Ok. E dunque va bene. Devo spostartelo altrimenti non lo vedi. Questi sono 100 pixel dal top. E dunque va bene così. Torniamo a noi. Pixel from left to right. Ok. No. Mi interessa proprio spostato. Dimensione icona. Sfondo transparent. Pulsanti orizzontali. Nessuno. Responsività. No. Posizione. Salviamo le modifiche. Bene. Non ci resta che andare a vedere se abbiamo fatto un buon lavoro. Incrociando le dita. Tasto destro su visita al sito. Apriamo in un'altra scheda. Abbiamo ancora tutto da fare. Però. Eccoti. I pulsanti di condivisione sono stati creati. Spettacolare. Questa è la potenza dei plugin. Torniamo al nostro sito. Per oggi. Ok. La lezione si ferma qua. Ma se hai qualche plugin da sottoporre alla mia attenzione. Sei il benvenuto. Scrivi qua sotto nei commenti. Se qualcosa non ti è chiaro. Scrivi qua sotto nei commenti. e sarà un piacere contattarti per darti una mano. Se vuoi imparare velocemente a lavorare online. Salutare il tuo capo. E avere la speranza di creare tanta invidia nelle altre persone. perché come me riesci a mantenerti da casa e sappi che ti invidieranno in tanti. Scrivimi qua sotto o contattami dal mio sito. Un'ultima cosa. Mi raccomando. Iscriviti qua al mio canale YouTube. Questo video si aggiungerà qua. Diventa uno dei miei 154 iscritti. e io ogni sabato continuerò a darti nuove informazioni. Ci vediamo sabato prossimo. Un abbraccio forte. Tito Maianti. Da scomunicare. Wordpress per Imbranati. Ciao ciao.